Ben ritrovati a tutti amici, oggi abbiamo di nuovo qui con noi Davide Montingelli, analista militare che è già stato insieme a noi la scorsa settimana e come la scorsa settimana ci darà gli ultimi aggiornamenti sul frontocraino, in particolare appunto sulla regione del Kursk e in Donbass, quindi intanto ben ritrovato Davide e grazie di aver accettato di nuovo il nostro invito. Ciao Alessandro, grazie mille, saluto il pubblico di Ottolina TV e che dire ci sono stati degli aggiornamenti rispetto all'ultima volta in cui ci siamo sentiti, ci sono diverse cose nuove diciamo, soprattutto a Kursk iniziamo subito sull'oblast russo, qua i russi hanno compiuto una controffensiva, un contrattacco sul lato sinistro del territorio ucraino nella nazione russa. Qua puoi vedere proprio ci sono diverse geolocalizzazioni, le bandiere equivalgono appunto a una geolocalizzazione, possiamo chiaramente vedere qual è stato il percorso dell'avanzata russa. I russi sono avanzati, hanno preso tutti questi villaggi, prima di tutto Gordivka, fino a Biakovo e poi hanno puntato in particolar modo su questo villaggio Snagost. Ora i russi hanno preso appunto, si sono allontanati dal fiume Seim, che è questo fiume qua, questo fiume come puoi vedere, e stanno cercando di andare a minacciare Obukovka, questo villaggio, e Liubimovka. Quindi i russi cosa vogliono fare? Vogliono cercare di andare a tagliare, a segare i due salienti principali che stanno più vicini qua. Questo saliente qua, come puoi vedere, è questa protuberanza di territorio, di questa offensiva appunto ucraina, che va a minacciare Corenovo, cittadina importante in questo settore, che gli ucraini volevano prendere, e poi vogliono i russi, vogliono cercare anche possibilmente di andare a minacciare Malai e Aloknia, perché da qua poi partono le puntate, qua abbiamo visto nelle ultime settimane diverse geolocalizzazioni di puntate ucraine, proprio in profondità, Kauciuk e via dicendo, di unità ucraina. Quindi ecco, i russi possibilmente vorrebbero andare a segare alla base questi due tronconi, queste due direttrici d'avanzata, perché attaccando appunto alla base taglierebbero le linee di rifornimento, taglierebbero le linee di comunicazione, in particolare su Corenovo c'è questa autostrada, c'è un'autostrada, quindi, come dire, è discretamente importante. E ti dirò di più, io l'ho detto proprio nei miei video, i russi, almeno nell'inizio, nel principio di questo attacco, hanno dimostrato bravura, perché comunque hanno attaccato da una posizione, questo lo abbiamo anche detto nel video che abbiamo fatto, nel primo video che abbiamo fatto insieme, qua gli ucraini stavano cercando di far saltare i ponti sempre su questo fiume, come puoi vedere il fiume Seym, questo qua è in azzurro, e quindi gli ucraini non si aspettavano presumibilmente un attacco da questo lato, da questa fetta di territorio, perché pensavano che appunto i russi qua fossero in crisi, fossero in crisi logistica, non avessero appunto possibilità di far affluire rifornimenti, mezzi e via dicendo, e invece i russi hanno attaccato proprio da questa parte. Ed è molto singolare. Adesso gli ucraini stanno cercando di alleggerire un po' la pressione sul loro fianco sinistro, attaccando, qua abbiamo una geolocalizzazione su Obukovka, altro caso di omonimia tra Russia e Ucraina, ci sono tanti villaggi che hanno lo stesso nome, quindi ecco, bisogna stare attenti a non confondersi. Abbiamo una geolocalizzazione di mezzi corazzati proprio a due chilometri dal confine, appunto in zona Obukovka-Vesele, quindi ecco, gli ucraini stanno cercando di alleggerire un po' la pressione. Qua tra l'altro c'è una strada piuttosto importante, c'è la Glushkovo-Tektino, un'altra strada che poi va su verso Glushkovo, che è un po' il capoluogo amministrativo di quest'area. Quindi ecco, gli ucraini stanno cercando un po' di parare il colpo così. Probabilmente gli ucraini avrebbero voluto, come già avevo detto nel nostro ultimo video insieme, prendere tutto questo possedimento, quest'area, no? Ricalcata, delimitata dal fiume Seym, dal confine ucraino-russo a sinistra e a destra, ovviamente dal territorio che era già in mano agli ucraini. In questo modo, appunto, gli ucraini avrebbero avuto il loro fianco sinistro parato, difeso. Perché, sai, si sarebbe livellato un po' il terreno, no? Avrebbero avuto il fiume Seym come difesa naturale, purtroppo non ci sono riusciti perché i russi li hanno anticipati. Adesso vediamo quali saranno gli aggiornamenti, però ecco, i russi hanno compiuto per ora un'azione con criterio. Riuscita, diciamo. Esatto. Ok, quindi si restringe, diciamo, il territorio in possesso dell'esercito ucraino nel Kursk. Almeno sul fianco sinistro, poi, ribadisco, bisogna vedere, perché adesso già ci sono combattimenti, come ti ho detto, mentre parliamo ci sono combattimenti su Obukovka, gli Obimovka, saranno decisivi, perché se poi i russi non riescono, come ti ho detto, a raggiungere questa autostrada che va verso Corinovo, e poi ancora di più a Malai e all'Ochnia, come dire, sì, l'azione sarà servita per migliorare un po' la situazione russa qua nell'area, però poi gli ucraini di fatto rimangono con la maggior parte del territorio che avevano preso ad agosto. Certo. Nel frattempo, proprio nel giorno in cui, o il giorno dopo in cui sarà pubblicato il nostro video, c'è stato quel rimpasto, no, importante tra i ministri del governo ucraino con Kuleba, che era stato sostituito, non l'avevo fatto in tempo a chiedertelo, perché appunto si era registrato prima, però ecco, mi chiedevo se fosse secondo te, chiaramente si può solo speculare, anche legato ad un eventuale fallimento di quelli che erano gli obiettivi tattici di questa invasione della regione russa del Kursk, o comunque, insomma, se ti eri fatto un'idea, visto che sono inevitabilmente rimpasti legati a quanto succede sul campo di battaglia, quello è inevitabile, se ti eri fatto un'idea del come mai proprio in quel momento Zelensky avesse preso una decisione simile rispetto a quello che era stato fino a quel momento forse il ministro più di punta dell'Ucraina, no? Ma guarda, ti dico, secondo me Kuleba aveva uno spazio ridotto nelle strategie militari ucraine, sicuramente è successo qualcosa, sicuramente la situazione per l'Ucraina, cioè non ci prendiamo in giro, è critica, è difficile, è una situazione difficile, ma basti pensare anche per stare più sull'ambito militare a Zalugini, Zalugini comunque generale di un certo livello, di una certa caratura, è stato mandato via in Gran Bretagna, secondo me è uno spreco, uno spreco di materiale, comunque di materia grigia, ecco, se vogliamo metterlo così. Sirsky, che è il nuovo comandante in capo, fa quello che può, però comunque Zalugini ha sempre dimostrato di essere comunque una persona, un generale di livello. Se mi chiedi appunto questo rimpasto qua, secondo me sì, c'è una situazione particolare, problematica, c'è uno Stato che comunque sta affrontando una guerra contro una grande potenza, e comunque le cose non stanno andando bene. Adesso sì, nel Kursk gli ucraini hanno tentato questa manovra, questa azione, però poi lo andiamo anche a vedere su Pokrovsk, su Krasnogorivka. Per chi sa, per chi non sa, per chi è lontano da questi ambiti, una persona può sentirsi dire è uno stallo, come ha detto il nostro Premier, la Giorgia Lameloni, io tra l'altro ho commentato in un video le sue parole, e Lameloni ha proprio parlato del fatto che ha riportato un dato di cambi territoriali da febbraio 2023, se non ricordo male, a febbraio 2024. Peccato che febbraio 2024 è proprio l'inizio di questo nuovo momentum russo, perché a febbraio, 17 febbraio, mi pare adesso giorno più giorno meno, i russi prendono Avdivka, e poi andiamo anche a vederlo sulla mappa, da lì iniziano comunque un'avanzata importante, cioè se vedi, a inizio anno, appunto primi mesi dell'anno, sono qua ad Avdivka, e poi piano piano vanno a prendere tutta questa fetta di territorio, che relativamente a questa guerra è una fetta di territorio importante, e adesso, lo andiamo a vedere poi se vuoi, sono a meno di 10 chilometri da Pokrovsk, centro importante che secondo me una volta preso potrebbe cambiare in senso operativo, potrebbe accelerare anche per i russi in modo favorevole il conflitto. Quindi, sì, ripeto, se una persona non è attenta, non sta dietro a questa guerra, può anche dire, adesso sì, c'è uno stallo, ma se poi andiamo a vedere con la lente di ingrandimento, le cose succedono, e cavolo se succedono, succedono tante cose, succedono. Certo, 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 certo. Sì, 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 ecco, magari appunto, poi a fine puntata, torniamo anche un attimo sulle parole della Meloni, che vi hai fatto anche un video interessante, e qui ora hai fatto uno zoom sul Donbass, vero? Esattamente. E qui, come stavi dicendo, si sta combattendo, il copione sembra essere per certi aspetti simile. Sì, assolutamente, guarda, inizio anche da ChasiVR, perché qua abbiamo una geolocalizzazione, secondo me è importante, perché i russi, in questi giorni, sono riusciti a stabilirsi, a creare una testa di ponte nella parte occidentale di Kalinina, qua dove siamo, allargo un po' il campo, siamo a nord di ChasiVR, ChasiVR cittadina importante, perché si trova su un'altura che domina tutte le zone circostanti, domina Bakhmut, ma domina soprattutto Kostantinivka, obiettivo importantissimo per i russi. I russi hanno fatto veramente tanta fatica ad avanzare su ChasiVR, hanno fatto fatica a prendere questo micro distretto, che sta a est del canale, e qua come puoi vedere c'è un canale, no, che divide in due l'abitato di ChasiVR, i russi ora sono riusciti, non solo ci sono combattimenti nel cuore di ChasiVR, però ribadisco, i russi fanno fatica perché gli ucraini lì li aspettano e va bene, i russi però sono nella parte settentrionale adesso, sono su Kalinina, hanno, abbiamo una geolocalizzazione in particolare, gli ucraini prendono di mira con l'artiglieria tutte queste posizioni, però i russi cosa potrebbero fare qua, potrebbero arrivare da nord, svoltare verso sud e andare a prendere tutte le linee di rifornimento, ferrovie e via dicendo, che entrano dentro ChasiVR e fanno affluire rifornimenti e quant'altro, in questo modo seguirebbero le gambe in gergo tecnico agli ucraini che stanno da queste parti, ok? Quindi, qui devono stare attenti, ovviamente gli ucraini se lo aspettano sicuramente, senza ombra di dubbio, però ecco, questa è una strada alternativa rispetto a quella appunto che vede i russi avanzare centralmente, lì ci vorranno veramente settimane, mesi, perché qua c'è presente una delle concentrazioni di forze, di unità ucraine maggiore della guerra, su Chasiviar, Sirsky se lo aspetta, se lo aspettano tutti, quindi ecco, questa è la situazione, poi ci sono anche dei combattimenti, i russi continuano a incunearsi nel cuore di Toretska, altra città piuttosto importante del Donbass, qua abbiamo una geolocalizzazione come puoi vedere, i russi continuano ad avanzare, e poi andiamo sul sul saliente di Ocertine, che è un po' l'area più calda, no? degli ultimi mesi, come ti stavo dicendo prima, gli ucraini hanno tentato delle manovre di disturbo, ci sono comunque presenti, abbiamo due geolocalizzazioni ucraine che ci mostrano proprio degli attacchi ucraini, però i russi continuano ad avanzare di fatto, continuano lentamente senza, come dire, avere il ritmo di una blitzkrieg, ma è ben lontano da questa guerra, i russi sono arrivati ai soborghi di Lisivka e su Chigiar, perché ti cito questi due abitati, questi due insediamenti, perché sono praticamente a 5 chilometri da Pokrovsk, siamo veramente vicini e Pokrovsk, come ti ho detto, centro logistico, snodo ferroviario, snodo di viabilità autostradale, come puoi vedere, escono ed entrano tante autostrade, tra l'altro i russi ultimamente stanno distruggendo i ponti collegamenti su Pokrovsk, quindi è un segnale che presto, più che tardi, vorranno avvicinarsi, vorranno mettere sotto assedio la città, e sarà una delle battaglie più importanti di questa guerra, secondo me, perché con Pokrovsk, veramente, la logistica ucraina, qualora i russi dovessero prenderla, verrebbe messa a serio pericolo, veramente, quindi diciamo che Sirsky lo sa, ovviamente, ci sono delle linee di difesa in questi campi, presumibilmente, ma, ripeto, sarà una battaglia molto importante questa, sarà veramente una battaglia molto importante e gli ucraini per ora non riescono a fermare i russi, ma l'arrivo dell'autunno e dell'inverno potrebbe favorirli in questo caso, come favorisce sempre un po' chi difende, ma guarda, posso dirti, io continuo a mentire questa roba, questa, questa, questa voce, io penso all'anno scorso, Avdivka, la battaglia di Avdivka si è svolta per lo più d'inverno, quindi, e i russi comunque, ecco, hanno compiuto quell'assalto, assalto, quella serie di azioni d'inverno, cioè, come dire, a meno che si tratti veramente di condizioni climatiche proibitive, secondo me no, secondo me no, non, sì, ovviamente poi ci potranno essere dei rallentamenti, ma, secondo me, non è che si arriverà, no, a un, ok, chiudiamo tutto, ci rivediamo a maggio dell'anno prossimo, secondo me assolutamente no, soprattutto perché i russi sanno che sono in un momento favorevole nel Donbass, soprattutto, sarebbe stupido, sarebbe. Certo, ma quello che manca di più per concludere, diciamo, in questo momento gli ucraini sono più a crisi, in crisi di mezzi o di uomini, cioè, pensando anche ai mesi successivi, cioè, di cosa avrebbero più necessità e mi chiedo, comunque, è più facile trovare mezzi che uomini, probabilmente, nel senso i mezzi, puoi sempre trovare il modo, no, politico di far sì che l'Occidente continui a sostenerti, come ha sempre fatto, aumentando anche la qualità degli armamenti, eccetera, eccetera. Sugli uomini, ad un certo punto, inevitabilmente, finiscono, ecco, diciamo, il tempo, anche solo per questo punto di vista, è a favore, a favore russo, indipendentemente da tutti gli armamenti sempre più tecnologici, sempre più offensivi che gli occidentali possano fornire a Kiev, no? Guarda, molto, molto semplicemente, sì, le armi, gli uomini, bene o male, comunque, anche se sono importanti, hanno avuto delle carenze di artiglieria e via dicendo, però il materiale umano è importantissimo, cioè, il personale è il nocciolo dell'afanteria, di un esercito in un'azione poi, in una guerra come questa e questo lo dicono gli stessi ucraini, la fonte filoucraina Deep State, lo continuo a dire, soprattutto su Pokrovsk, sono meravigliati da quanti uomini hanno i russi, cioè i russi continuano a far affluire personale in, soprattutto sul saliente di Ceretine in direzione Pokrovsk, cioè, io ho letto veramente tanti tante notizie su Telegram di questi continui attacchi, di queste continue ondate e non riusciamo a fermarli, dicevano, cioè, se noi pensiamo, se noi abbiamo l'assunto che mandiamo appunto all'esaurimento le scorte umane, so che è brutto da dire così, ma purtroppo ragionano anche così in questi campi, in questo momento, cioè, sbagliamo di grosso, sbagliamo, questi qui non finiscono, cioè, proprio in soldoni, quindi, quindi i russi questo aspetto qua, poi sicuramente avranno alla fine della guerra entrambi i paesi veramente avranno un grande danno da un punto di vista demografico umano, l'Ukraine in special modo, però i russi su questo aspetto sono più forti, si vede, cioè, ti ho detto nell'ultimo video, in certi punti qua, andiamo da una superiorità di due a uno, tre a uno, quattro a uno, magari, i russi sono di più, non c'è niente da fare, soprattutto in questo ambito, cioè, in questo punto, in questa sezione del fronte. chiaro, e questo sarà chiaramente un po', probabilmente, l'aspetto decisivo che ad un certo punto porterà gli ucraini prima o dopo a cercare un negoziato, no? Insomma, a meno che, a meno che, a meno che, immagini un'entrata, un'entrata, almeno di truppe, di truppe nato sul territorio, ecco. Guarda, io ti posso dire, ti posso dire, non serve sempre avere la superiorità di uomini e mezzi. Gli ucraini hanno tentato quello che hanno tentato su Kursk e io, come ti ho detto nel primo video, non li ho biasimati. In guerra, secondo me, prima di tutto, servono le idee, servono. Se ci sono grandi idee, buone idee, si possono fare anche grandi cose contro un nemico soverchiante, come in questo caso può essere la Russia. Però, per ora, appunto, non ne vedo, evidentemente, anche il morale, comunque non è dei migliori, vengono compiute anche delle scelte proprio non particolari. Forse, non l'ho detto nel primo video che abbiamo fatto insieme, ma, per esempio, è stato criticato un comandante ucraino qua su Karlivka, su questa, su questo villaggio, perché si è ritirato. Cioè, qua c'era un rischio di accerchiamento, purtroppo, con la mappa come è messa ora non si capisce bene. Ma, con un rischio di accerchiamento, questo comandante di battaglione si è ritirato ed è stato, come si dice, non rimosso dal comando. Poi, appunto, dopo la mentela, dopo la protesta anche di questa fonte pilo-ucraina Deep State, è stato rimesso al suo posto. Però ti fa capire che anche a livello di linee di comando, ecco, è difficile, è difficile. chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Bene, Davide, io... Ah, devi finire, ok. No, 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 guarda, l'ultimissima cosa che i russi stanno anche compiendo delle avanzate significative da queste parti, cioè a sud del Saliente di Ocerettine, come puoi vedere, tutta quest'area, c'è una sacca, la sacca di Nebelske, che probabilmente i russi andranno a riempire molto presto perché gli ucraini non possono permettersi di stare a est di questo fiume, del fiume Vovcia, come puoi vedere questo fiumiciatolo corso d'acqua, i russi stanno anche andando, diciamo che qua in questa sezione si parlava di direzione Krasnogorivka, i russi hanno preso questa cittadina che è Krasnogorivka, adesso si inizia a parlare della direzione Kurakov, e Kurakov è altro centro che i russi vogliono, importante, importante per fini tattici, operativi, ma anche simbolici per quello che è successo all'inizio nel 2014 in particolare, con le due repubbliche, come dire, sono fatti anche in cui non voglio entrare molto, però per i russi è importante anche la parte simbolica, lo abbiamo visto. c'era stato recentemente quell'attacco a quei soldati, a quegli istruttori anche svedesi, a Polkova mi sembra, che erano, che era stato organizzato in un giorno preciso, importante per la storia russa nel conflitto tra Russia e Svezia, appunto, ora poi non mi ricordo. del 1700, dici? Eh, sì, la guerra del nord, sì, sì, ho capito. E quindi, insomma, no, sì, per sottolineare appunto come fosse importante questo aspetto, no, per i russi, anche magari, per noi ci, alle volte ci spinge. No, vabbè, la Russia è un impero come tutti gli imperi, ha una concezione sua, comunque, ma una concezione forte, importante della sua storia. Ecco, e infatti, infatti, sì, questo, questo, in questo episodio mi era tornata a mente. Davide, allora io ti ringrazio, è sempre un piacere ascoltarti, fai sempre analisi molto, molto, molto equilibrate, non solo appunto per quanto riguarda le analisi appunto strettamente operative sul campo, ma anche, anche se cerchi di farlo il meno possibile, anche quando ci allarghiamo a discorsi più strettamente, più strettamente politici. Quindi, ti ringrazio, e invito chi ci ascolta a seguire il tuo canale, che è un canale che sta andando benissimo, in maniera meritata, direi, e ci vediamo alla prossima puntata, e ai prossimi aggiornamenti. Ti ringrazio, Alessandro, e ringrazio anche per l'ascolto il pubblico di Ottolina TV. A presto! A presto! Grazie a tutti.